Macro categoria imprese, categoria innovazione. Il premio è quello di eccellenza dell'anno Innovazione and Leadership Tech and Finance. Leggiamo la motivazione. Per aver fatto della tecnologia all'avanguardia, dell'alta qualità e dell'impatto sociale e ambientale, il proprio business model, riuscendo a finanziare progetti di eccellenza a livello globale, inclusa la quotazione, dai materiali compositi nanostrutturati all'ingegneria aerospaziale, rail e navale, dall'innovazione biomedicale alla gestione dei rifiuti non riciclabili. Il premio va a Xelion. Con piacere mi collego con Marescotti Ruspoli, Executive Board Member Business Development di Xelion. Benvenuto, grazie per essere qui. Buongiorno. Un commento a caldo, subito di prassi le chiedo questo. Siamo molto gratificati dall'essere stati selezionati dal team di eccellenza delle fonti. Fa sempre molto piacere vedere il proprio lavoro riconosciuto. Noi abbiamo diversi riconoscimenti, ma questo ci fa particolarmente piacere. Beh, si leggono tanti punti in dettaglio nella motivazione che si possono ricollegare con la quotazione imminente. Quindi le chiedo semplicemente questo, insomma, di raccontarci la vostra mission, i vostri prossimi progetti alla luce proprio della quotazione. Xelion è un progetto, è una start-up, una start-up finanziaria e tecnologica, finanziaria perché vuole avere le spalle grosse con un patrimonio importante e tecnologica perché detiene diritti di proprietà intellettuale e capacità di innovativa tecnologica che vuole applicare sul terreno. I fondatori sono degli appassionati della tecnologia che hanno per propria esperienza, visto la difficoltà che hanno le start-up, anche le migliori, anche qualificati, al far realizzare, a vedere realizzare i propri progetti e le difficoltà che hanno anche le grandi imprese, parlo di colossi come Siemens, come Airbus, come colossi multinazionali, la difficoltà che hanno a far nascere l'innovazione e anche a farla aderire alla realtà. Quindi ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo detto facciamo noi la nostra grande società che applica l'innovazione senza avere i freni che possono essere collegati a problemi sindacali, a problemi di management, ossia le motivazioni del management a innovare, quindi a cambiare ciò di cui loro in realtà sono stati bravi fino adesso a sviluppare. Insomma, diversi ostacoli che fanno sì che alla fine è molto difficile che le cose avvengano. Noi vogliamo cercare di cambiare questo, quindi avere le nostre innovazioni e applicarle attraverso una strategia di acquisizioni di aziende alla quale poi facciamo sviluppare le nostre tecnologie. Tecnologie nel campo soprattutto dei materiali, materiali compositi, decompositi, nanostrutturati con qualità eccezionali, materiali che non bruciano, materiali che sono invisibili alle onde radar, materiali che assorbono i rumori, che hanno le caratteristiche dei compositi, per esempio, quindi della leggerezza con tanti vantaggi sia di costo, di gestione, life cycle cost, sia di risparmio energetico, tantissimi vantaggi. Noi siamo una società estone perché è la nazione che ci ha permesso di sviluppare questo progetto, però abbiamo dei progetti importanti in Italia dove per esempio in Puglia stiamo studiando di sviluppare un progetto di economia circolare intorno all'economia del carbonio, partendo dalla produzione della nostra energia con fonti rinnovabili, per essere competitivi nella produzione del filo di carbonio, fare i nostri preimpregnati qualificati per l'aerospace o per il navale o per quello che dove intendiamo sviluppare dei componenti, la fabbricazione dei componenti, la fabbricazione di piattaforme, una piattaforma è un oggetto intero che funziona, può essere un drone, può essere una barca particolare e infine il riciclo del carbonio di queste materie, riutilizzando gli scarti e utilizzando parti di questi scarti per rifare l'energia. Ecco questa è una piccola descrizione di quello che sono i nostri progetti. Insomma certo, una piccola descrizione che però corrisponde a una grande realtà, l'abbiamo visto, lei ha detto una startup però con delle azioni e delle mission ben precise per il futuro degli obiettivi, appunto abbiamo citato la quotazione però chiaramente abbiamo anche letto insomma progetti di eccellenza a livello globale e perciò insomma la strada è avviata e tutto quello che arriverà sarà, anzi quello che mi ha raccontato è solo una piccola parte immagino di quello che arriverà, giusto per andare a conclusione. Assolutamente, assolutamente la quotazione è un passo per noi necessario più che per raccogliere mezzi finanziari per essere proprio globali, aperti, visibili, controllati, ecco quindi vogliamo questa trasparenza totale. Io non posso far altro che fare i complimenti a lei naturalmente a tutto il team, quindi ringrazio Marescotti Ruspoli e complimenti a Excelion che sia solo l'inizio insomma, ma questo lo abbiamo già detto. Grazie. Grazie alle fonti, speriamo di incontrarci di persona. Sì esatto, ecco questo dobbiamo aggiungerlo ai come direi desiderata oltre agli altri punti che lei ci ha descritto, lo mettiamo in coda ma lo mettiamo così è ben presente, assolutamente. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi.